buongiorno ragazzi ed eccoci ritrovati per un nuovo video sul milan femminile visto che ieri si è giocata la partita allora prima di iniziare a raccontarvi quello che è successo ieri vi ricordo alcune cose importante allora innanzitutto lasciate like a questo video e seguiteci su questo nostro canale youtube a cimile inside poi ovviamente vi ricordo anche di seguirci su tutti i nostri canali quindi instagram facebook twitter e twitch dove facciamo tante live ogni giorno a cominciare anche da stasera sempre alle ore 21 poi vi ricordo di andare a visitare il nostro sito internet www.acmilaninside.com dove sarete sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo milan quindi parliamo sia della prima squadra maschile della femminile del milan primavera e di tutte le notizie che ogni giorno circolano sul milan benissimo allora dopo aver fatto questa premessa iniziamo a raccontare la partita giocata ieri ieri si è giocata la semifinale di ritorno della coppa italia femminile l'impresa era ardua per il passaggio alla finalismo perché all'andata al bismara la juventus si era imposta per sei reti a uno cos'è successo ieri la partita è terminata 5 a 3 per la juventus quindi altra sconfitta però fino al cinquantottesimo sessantesimo minuto è stato un dominio rosso nero infatti al cinquantasettesimo minuto il milan era in vantaggio per 3 a 1 grazie alle rete di thomas in apertura di partita e alla doppietta di capitano valenti valentina bergamaschi poi il solito calo fisico calo cioè più che fisico in pratica c'è stato un abbassamento di tensione nel successo che la juve è riuscita prima a pareggiare quindi portarsi sul 3 a 3 e addirittura nel finale a vincere la partita 5 a 3 pratica dal sessantesimo in poi la juventus ci ha segnato quattro reti che dire l'impresa come vi ho detto prima era ardua per il passaggio del turno ma anche al cinquantottesimo sul 3 a 1 servivano altri tre gol per andare minimo ai supplementari quindi diciamo che era difficile immaginarsi un qualcosa di diverso dalla qualifica in pratica la qualificazione alla finale però almeno che dire e portare a casa la vittoria che le ragazze fino a quel momento stavano e avrebbero meritato purtroppo questi cali il milan in stagione non è una cosa c'è la prima volta che succede è successa anche in altre partite dove si andava in vantaggio e poi nel finale si arrivavano queste rivolte e sono stati punti pesanti persi per la lotta la qualificazione alla champions league quindi quella di ieri è l'ennesima prova di questa squadra che ha giocato una grande partita fino a un certo punto però poi dopo si è bloccata e si è fatta rimontare e addirittura questa volta ha anche perso c'è da dire che di fronte c'era la squadra più forte del campionato italiano quindi la juventus però quando sei in vantaggio per 3 a 1 al sessantesimo minuto e la stai dominando in casa della squadra che ha vinto gli ultimi quattro campionati tutto fa presagire e che bene o male riesciresti a portare la vittoria a casa cosa che purtroppo non è successa neanche ieri si siamo fatti rimontare e abbiamo perso la partita da segnalare ovviamente come sempre l'ottima prova di valentina bergamaschi ieri doppietta è natale questo questa doppietta tra campionato e coppa è andata a segna per la quarta volta consecutiva da quando è stata riportata nel suo ruolo ha cominciato a cioè tornata la valentina bergamaschi che tutti quanti conoscevamo quindi segna assist è tornata a livelli altissimi quindi ieri per quanto riguarda la prestazione del mina la top e valentina bergamaschi un bel otto in pagella da dire che nella prepartita infatti le formazioni annunciate portavano laura giuliani come titolare però poi per un problema fisico non è giocato e ha giocato in porta serena bab che ha fatto anche le una buona prestazione e quindi cioè che altro aggiungere rimane il rammarico di non aver vinto la partita rimane il rammarico della gara di andata dove abbiamo tirato tantissime volte nello specchio della porta e non siamo riusciti a segnare abbiamo fatto solamente una rete la juve all'andata al vismara ha tirato non dico sei volte ma sette volte ha segnato sei reti noi abbiamo trovato il gol della bandiera solamente al 93esimo quando la juventus era già in vantaggio per serie da zero quindi diciamo rispetto a noi è stata più cinica perché tra andata e ritorno possiamo dire che avrà tirato 12 13 volte in porta trovando ben 11 reti noi invece nella gara di andata non ci siamo riusciti ieri a torino ci poteva anche essere stare la sconfitta perché come detto prima la juve è la squadra più forte del campionato italiano però le abbiamo segnato tre reti quindi il rammarico resta la finale sarà juventus roma perché la roma eliminato l'empoli nella gara di sabato aveva già vinto la gara d'andata una zero e ha vinto sabato tu a zero che dire l'impresa era difficile però peccato non aver portato a casa la vittoria che le ragazze meritavano fino al sessantesimo non lo ricordo poi dopo il calo ha portato la juve a ribaltare la partita e a vincere prima di chiudere vi ricordo la premessa iniziale lasciate like a questo video seguiteci sul nostro canale youtube a cimian inside e su tutti i nostri format instagram facebook twitter e twitch e visitate il nostro sito internet www.acimianinside.com grazie a tutti e alla prossima